Buongiorno a tutti, mi chiamo Pietro Rigucci, ho l'onore di rappresentare questa sede, il gruppo Trunf, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni essendo sul podio dei principali produttori di macchine per la lavorazione della lamiera, profilati, saldatura e le molteplici attività del gruppo in veste di product specialist per il settore degli impianti per la lavorazione del tubo. Più che macchine parliamo di impianti completi, automatici, flessibili ed ergonomici per la lavorazione a tutto tondo a 360 gradi di tubi e profilati metallici. La presentazione verte un attimo sull'introduzione del mondo del tubo e dei profilati per calarci un attimo nel mondo in questione, una piccola presentazione della macchina e delle parti che la compongono e in particolar modo vorrei porre l'accento sulle possibili soluzioni e le possibilità realizzative che questa macchina, questa tipologia di impianto comporta. da capire, perfetto. Partiamo con un piccolo video sul mondo dei tubi e sulla tipologia di applicazioni. In realtà tubi, telai profilati sono ovunque, anche nel nostro tempo libero, nel nostro ambiente dove viviamo, lavoriamo, arredamento, veicoli, veicoli fino ai veicoli più leggeri, la spesa, lo sport. Tutto quello che facciamo comporta strutture, telai, oggetti che sono realizzati con profilati metallici, tubi, semilavorati e quant'altro e quindi ogni aspetto della nostra vita è caratterizzato da telai e componentistica realizzata con tubi, dall'industria, l'agricoltura, del colibro, sport, casa, arredamento. I tubi preferiscono il trunfo. Poniamo l'accento e individuiamo un attimo quali possono essere i settori applicativi, quindi un impianto di lavorazione del tubo si rivolge a tutti gli attori del settore edilizia, per esempio, dove ci sono applicazioni nelle strutture, nei seramenti, ringhiere di protezione, sistemi di elevazione e spostamento, persone, merci, motorizzate, l'arredamento metallico, particolarmente importante in Italia, cabinet per elettronica e telecomunicazioni, telai, rec, profili specifici, abbiamo tutto il settore dell'automotive, specialmente ed in particolar modo industriale, veicoli ed attrezzature agricole, veicoli leggeri per uso personale, quindi anche fino al moto, bici, tutto il settore dell'energia e settori particolarmente importanti, delicati da un punto di vista di materiale, di specifiche, come per esempio medicale e perché no anche il settore fitness, dove abbiamo delle importanti applicazioni, importanti clienti. di cosa si compone un impianto laser tubo? Sostanzialmente lo possiamo suddividere in quattro macro aree, trattasi di un impianto completamente automatico, pertanto abbiamo un sistema di carico, di carico di barre semilavorati, che può essere automatico nel caso dell'esecuzione di batch di elevato numero di tubi con prodotti ripetitivi, abbiamo a disposizione un carico semiautomatico per sezioni particolari o che hanno bisogno di riferimenti e comunque sezioni eventualmente non simmetriche o che richiedono un posizionamento particolare o batch di dimensioni non ragguardevoli, quindi la macchina è estremamente flessibile ed è adatta sia ad elevate produzioni che all'esecuzione di batch intermedi o minimi fino all'otto unico e infatti abbiamo anche la possibilità di un carico manuale nel caso di travi strutturali o di altri elementi che necessitano di una manipolazione particolare. Il cuore dell'impianto è costituito dall'unità di processo, ovvero sia una cabina di taglio laser alimentato da un sorgente che può essere in base co2 o fibra di produzione trunf, trunf produce tutti i componenti della macchina ovviamente ad eccezione dei motori, delle guide e quant'altro, quindi produce in particolar modo la sorgente laser, le teste di taglio e tutta la carpenteria della macchina. All'interno della cabina troviamo anche altri dispositivi per altre lavorazioni, quali la maschiatura per esempio, quindi abbiamo la possibilità di integrare in una macchina che richiede comunque un investimento elevato delle altre lavorazioni per ottimizzare e ridurre il tempo di ritorno dell'investimento ed è in questa direzione che sta lavorando trunf, per rendere sempre più flessibile ed efficiente l'impianto laser tubo. A valle della lavorazione abbiamo ovviamente un sistema di scarico dei prodotti finiti e non solo di quelli, degli sfridi che cerchiamo di limitare con alcune caratteristiche particolari sia delle teste di taglio che della precisione e della qualità di taglio, comunque c'è una produzione di sfridi che può essere scaricata insieme con il prodotto finito oppure separatamente secondo logiche strategie produttive che vengono decise dal cliente caso per caso. A completamento di questo tipo di macchina abbiamo un sistema di controllo molto avanzato, un'unità di comando che a bordo macchina mi consente di gestire e controllare tutti i parametri di processo. Il sistema di controllo non è inteso per la programmazione completa della macchina in quanto sarebbe una perdita di tempo per l'attività stessa del laser tubo, quindi i programmi vengono seguiti da ufficio, tuttavia l'operatore a seconda delle condizioni ambientali senza dover in caso di variabili improvvise non previste, non è necessario che ritorni all'ufficio tecnico per cambiare il programma ma può controllare in macchina per esempio le tabelle tecnologiche, intervenire sulle logiche e le strategie di carico scarico o per esempio adattare il lavoro della macchina ad eventuali lunghezze diverse o tolleranze diverse richieste. Qua Trunf presenta in portafoglio sostanzialmente una gamma di macchine che si rivolge al 95% dei diametri normalmente lavorati e processati con questo tipo di macchine ad elevata produzione ed elevata dinamica. Quindi il diametro massimo lavorabile è 254 mm, abbiamo una serie di macchine 5000 che si rivolge ad un mercato più leggero come arredamento e profilati a sezione piccola quindi fino a 152 mm e di una macchina che raggiunge 40 kg di peso per metro di tubo e 254 mm di diametro massimo tondo lavorabile sempre con elevatissima attenzione alle dinamiche della macchina di movimentazione dei pezzi e di velocità di taglio in modo da massimizzare la produzione. Vediamo un attimo un video sul funzionamento della macchina, ganache completamente sincronizzate per avere la certezza della centratura del tubo, il carico è completamente automatico quindi in tempo mascherato vengono preparate le barre pronte per essere caricate sul mandrino a fine esecuzione di taglio. Tutti i processi sono completamente automatizzati ed alcuni dispositivi consentono di accelerare enormemente la velocità di taglio eseguendo per esempio fori o profili complessi esclusivamente con il movimento della testa e sincronizzando la testa con il movimento del mandrino. Ovviamente la macchina in fibra è flessibile al taglio alla lavorazione di leghe di rame e materiali diversi. Abbiamo la possibilità di un carico semi-automatico per comporre batch di barre diverse gestibili in sequenze completamente automatiche e il sistema di carico si dispone automaticamente ad accogliere le barre di diametri e dimensioni diverse. Abbiamo la possibilità di gestire sezioni asimmetriche o speciali del cliente anche in modo automatico. Il sistema di scarico è molto flessibile, può raccogliere i pezzi delicati in modo da evitare graffi e danneggiamenti e scaricarli delicatamente, oppure un sistema di pulegge mobili su tutta la lunghezza del sistema di scarico può raccogliere il pezzo e collocarlo fino a 10 posizioni di scarico diverse, in modo da garantire un'elevata autonomia della macchina anche nel turno non presidiato. Riassumendo brevemente i dati tecnici di questa macchina, sostanzialmente qui abbiamo un diametro di lavorazione massima del tubo tondo 254 mm, sostanzialmente un 10 pollici, la sorgente laser fibra trunf, prodotta da trunf e il tru disc è un 4 kilowatt in questo caso. Abbiamo la possibilità di un taglio bisellato, quindi la testa si inclina con un'angolazione di più o meno 45 gradi e ci consente di realizzare tagli bisellati, svasature, selle per esempio per raccorderia o altro tipo di fittings, produzioni ed ha delle elevatissime dinamiche di lavoro. Il movimento assiale del mandrino si muove fino ad una velocità di 170 metri al minuto e dà una rotazione angolare che può raggiungere i 780 gradi al secondo, quindi stiamo parlando di più di due giri al secondo per dei mandrini che hanno un peso superiore alla mezza tonnellata. Il carico tubi è fino a 40 kg per metro per una lunghezza di carico oltre 9 metri. Sistema di programmazione da ufficio avanzato, il nostro tube design prodotto trunfe realizzato in collaborazione con Solidworks che consente il carico e il riconoscimento di file step AX e qualsiasi tipologia di file 3D e questo impianto consente la lavorazione completamente automatica di profili in metalli diversi, quindi andiamo da acciaio carbonio, inox alluminio, leghe di rame, anche con sezioni asimmetriche speciali nonché sezioni aperte, L, U, piane. Quindi non solo lavorazioni del tubo ma anche profilati e semilavorati differenti. Dalla produzione convenzionale perché passare ad un impianto laser tubo? In una, supponiamo, la filiera produttiva che è dietro ad alcune lavorazioni per la produzione di un prodotto in tubolare completo che potrebbero comprendere per esempio una fase di taglio, di forattura, fresatura e necessaria sbavatura per dare un prodotto finito. Chiaramente ognuna di queste fasi richiede un operatore, richiede un buffer, un magazzino e richiede uno spostamento della merce all'interno dell'azienda da una fase all'altra. L'impianto laser tubo TRUMPF consente ovviamente di eliminare tutte queste fasi e racchiude all'interno di sé tutte queste fasi ed anche altre che andremo a vedere poi nel proseguo della presentazione. quelle che recentemente sono state aggiunte per aumentare la produttività ed aumentare la flessibilità e la resa e ridurre il tempo di ritorno dell'investimento e i ROI di un impianto di questo tipo. TRUMPF è soprattutto nel laser tubo un mondo di soluzioni. A partire da un profilato si possono realizzare elementi di estrema creatività anche emozionale, il tubo diventa flessibile con un taglio preciso ed una progettazione intelligente si possono avere un tubo che appunto diventa flessibile delle unioni assolutamente perfette sia con il taglio 2D e 3D o per esempio un sistema, un banale tubo 30x30 un profilato che diventa, si può chiudere su se stesso da pezzo unico si può evitare di saldare insieme più componenti per avere un taglio piega che consente brevemente di ridurre la quantità di saldatura e l'insieme di lavorazione oppure sistemi di fissaggio per ridurre la quantità di saldatura ridurre l'utilizzo di dime ridurre e ottimizzare le risorse che vengono impiegate poi nelle fasi successive di lavorazione del taglio quindi il punto è porre l'attenzione su tutto quello che l'impianto laser tubo può fare per aiutarvi a ridurre ed ottimizzare tutte le operazioni che possono essere a monte del taglio tutte le soluzioni che vedete nel video sono ricavabili in modo estremamente fragile e presente nelle macro e nelle librerie che sono presenti nel software dedicato che viene fornito con la macchina quindi specialmente nella creazione di pezzi che poi vanno a formare dei telai più o meno complessi è possibile realizzare dei sistemi di unione con interferenza o meno a scelta dell'operatore e del designer che vi consentono di affrontare efficacemente e poi tutto il processo di montaggio e anche processi che sono necessariamente manuali, onerosi, faticosi come montaggio, saldatura, preparazione di dime e quant'altro la precisione ovviamente di posizionamento degli organi della macchina è fondamentale in modo da avere un taglio perfetto e preciso in questo caso abbiamo realizzato un gioco ad incastro che viene effettivamente utilizzato nei corsi di formazione degli operatori delle aziende clienti delle nostre macchine e durante il corso viene insegnato a programmare e a produrre un gioco di incastri come questo qui chiaramente abbiamo degli esempi di selle che potrebbero appartenere a dei fitting e vari tipi di compenetrazione di tubi qua abbiamo un bellissimo esempio di taglio piega dove viene realizzato un angolo rotondo dove io ho la possibilità anziché di andare a saldare lungo l'angolo e quindi poi dover utilizzare flessibili, scotch bright e altre macchine per andare a ripulire gli angoli e preparare il prodotto finale ho già la possibilità di saldare su una superficie piana e avere un prodotto già finito facilmente qua per esempio viene realizzato con delle piccole altine un incastro quindi per un collegamento rimovibile da effettuare con viti o bulloneria una piccola panoramica di inusuali sezioni che possono essere gestite da una macchina del genere solitamente pensiamo a un tubo tondo un tubo quadro arriviamo a pensare ad immaginare una U o una sezione AD invece l'impianto laser tubo trunfe consente di tagliare e realizzare lavorazioni su sezioni anche provenienti da profile di una varietà estremamente importante quindi è non limitato a questo questo è solamente un esempio che viene dalla nostra esperienza noi lavoriamo molto a contatto con il cliente su questo tipo di impianti e la mia presenza è appunto un aiuto a individuare e configurare con il cliente il giusto layout a seconda delle singole modalità di produzione della strategia del cliente che intende implementare questo tipo di impianti e verificare il numero di opzioni e di possibilità della macchina a seconda del tipo di prodotti che vengono trattati o anche perché no dei progetti futuri del cliente di espansione dei sogni di lavorazione che potrebbe avere nel cassetto un'occhiata al nostro software si compone di una parte CAD e di una parte CAM ci dà la possibilità di importare disegni di tubi singoli in 3D o anche assiemi completi il software individua e tronchifica tutti i vari pezzi è possibile introdurre come nella figura in alto a sinistra dei sistemi smart di connessione questo avviene prelevandoli dalla libreria del software dedicato è possibile anche gestire sezioni particolari che magari gli operatori del settore riconosceranno come particolarmente difficili come il taglio per esempio delle IPE delle travi strutturali che richiedono un'attenzione particolare alla strategia di taglio dopodiché dalla fase di riconoscimento del disegno importato passo alla sezione CAM dove il software mi suggerisce automaticamente le tabelle tecnologiche e la strategia di taglio di sfondamento e di lavorazione del pezzo mi fa vedere una simulazione del taglio e all'interno di questa finestra io posso decidere strategia di carico di scarico e modificare le tabelle di lavorazione parlando di creatività e soluzioni la macchina l'impianto laser tubo TRUNF è un impianto direi strategico che nel caso per esempio di terzisti aggiungono peso e capacità decisionale a magari intermediari che si trovano tra i progettisti e i realizzatori finali i committenti finali come si vede parlando di arredamento e parlando di veicoli è possibile fornire ai veicoli per esempio soluzioni creative in certi casi inimmaginabili come nel caso della fixed bike lì presentata o per esempio un piccolo gadget realizzato da un profilo normalissimo profilo 40x40 che diventa un qualcosa dal quale è difficile riconoscere la forma iniziale di partenza soluzioni parlando di soluzioni riassumendo un attimo questa presentazione parlare di un impianto laser tubo significa passare due giorni almeno a parlare di tutte le possibilità e probabilmente non faremo in tempo abbiamo la possibilità però di focalizzare su determinati aspetti come la facilitazione degli assemblaggi connessioni semplici e precise rigide filo superficie possibilità di formare delle curve in testatura tubi come per esempio nel collettore di uno scarico la macchina esegue il collettore ed esegue anche la parte piana con un collegamento intelligente in questo caso abbiamo eseguito delle alette di forma differente per andare a facilitare il posizionamento eliminare le dime di montaggio ridurre il lavoro di saldatura e in sostanza ridurre i tempi di montaggio evitando errori in questo caso abbiamo anche integrato all'interno della macchina una stazione di filettatura per ridurre il tempo di investimento della macchina approfittando del fatto che abbiamo già il tubo saldamente precisamente centrato nella macchina possiamo utilizzare la tecnologia flow drill per realizzare sfondare e realizzare filettature anche dove la carne è particolarmente sottile quindi andando ad eseguire fino a M8 M10 anche su spessori sottili e la macchina inoltre esegue marcature quindi possiamo marcare i tubi incidendo oppure semplicemente disegnando e seguendo un alfanumerico progressivo dell'otto produttivo marcare la data e l'istante di produzione possiamo eseguire un QR code leggibile da cellulare con tutti i dati dell'otto produttivo che è anche leggibile nel caso il metallo sia graffiato o rovinato a seconda del gas ed itaglio possiamo eseguire loghi e disegni chiari e scuri a seconda del tipo di materiali sui quali lo eseguiamo concludo ho anche sforato di questo mi scuso dicendo che nel nostro stand nel padiglione 15 facilmente rintracciabile direi siamo a disposizione per esaminare i vostri disegni effettuare uno studio dei tempi di lavorazione e effettuare anche uno studio della fattibilità del progetto quindi dei tempi di ritorno dell'investimento unitamente anche a dei servizi di finanziamento per fornire un pacchetto completo per l'introduzione di un impianto laser tubo all'interno delle vostre realtà e rispondere a tutte le domande grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti